Allora, innanzitutto grazie dell'invito che è gradito. Io sono tornato da pochi mesi in servizio, neanche dieci mesi dopo un'assenza prolungata per incarichi pubblici e ho trovato una condizione nel mio dipartimento, allora non era neanche il dipartimento, era semplicemente il CERT quando l'ho lasciata, che devo dire, un po' in controtendenza rispetto a quello che si dice, ho trovato molto positiva, ho trovato una strutturazione molto positiva e quindi ringrazio qui anche il dottor Rodolfo Rabboni che è presente, che è responsabile dell'area del gioco patologico nel dipartimento, che dal 2011 ha strutturato un'organizzazione, devo dire con molta competenza e passione e anche con un pizzico di intraprendenza che molto spesso le cose si fanno senza risorse e quindi utilizzando anche volontariato, associazioni e un po' di inventiva, quindi questo è un dato estremamente positivo perché nell'età moderna, nel pubblico moderno, credo che la parola d'ordine deve essere arrangiarsi e nel fare le cose, se uno in qualche modo non mette insieme la capacità, l'impegno, la fantasia, ma anche l'arte di arrangiarsi, che però è tipicamente italiana e quindi dovremmo averne una buona quantità, non si riesce a fare questo. Allora dico subito che noi abbiamo strutturato nell'interno di un dipartimento, fino a qualche giorno fa il dipartimento comprendeva la ex area di Ancona, la ex zona 7, oggi ovviamente parliamo di area vasta 2, cioè l'area di Ancona, il dipartimento ha questo gruppo di lavoro che è nato in maniera, diciamo come sempre inizialmente, con numeri modesti, ma adesso si è strutturato con un numero abbastanza significativo di persone che affluiscono. Allora, innanzitutto una definizione, il gioco d'azzardo patologico, quando è che diventa patologico? Quando dura più di un tempo accettabile, è condotto meccanicamente, in maniera impulsiva senza desiderio, influenza negativamente il lavoro o lo studio, a secondo delle attività della persona, sfocia in crisi finanziarie, è quello che ascoltavo questa mattina dal legale, interferisce nei legami familiari, sociali e professionali, spesso devastando consuetudini, provoca irritabilità, senso di colpa e disperazione e poi spinge a soluzioni ragionevoli, illegali o a propositi suicidari. Quindi si è trasformato in un serio problema che non si riesce da soli a regolare e a gestire. Il gioco d'azzardo patologico è una condotta compulsiva, fuori controllo, prioritaria, nociva, fa grandi danni e inflessibile. Nel nostro, all'area del gioco patologico, nel nostro Dipartimento di Dipendenza di Ancona, è un servizio specialistico per la diagnosi e il trattamento delle problematiche psicologiche, connesse appunto in generale alle nuove dipendenze. Quindi non solo gioco d'azzardo, ma anche uso eccessivo di videogiochi, dipendenza da internet, computer, spese compulsive e quant'altro. Come accedere al servizio? Basta una prenotazione telefonica al primo colloquio. Ogni prestazione è sempre gratuita, cioè non ci sono richieste di formalità di alcun tipo. L'accesso è consentito sia ai giocatori sia ai familiari. Ai familiari aggiungiamo anche quando il giocatore stesso non è d'accordo. Anzi, il più delle volte il primo contatto comincia con la famiglia o qualcuno che si occupa del giocatore piuttosto che dal giocatore stesso. Questo aspetto che ho citato adesso è molto importante, direi fondamentale. La presenza del familiare nel percorso di cura, del familiare o dei familiari. In molti casi appunto il familiare è assolutamente indispensabile, è ovvio, perché il giocatore spesso si vergogna o comunque non è coscienza di questa sua condizione patologica e spesso è il familiare che alla fine convince il giocatore stesso a presentarsi da qualche parte. È notorio che il giocatore minimizza e nasconde il fenomeno che emerge magari solo quando è assolutamente conclamato o innegabile. In altri casi accogliere il familiare che si presenta da solo è l'unica via per motivare il giocatore stesso a cedere il programma e cercarlo in qualche modo di renderlo consapevole della sua ormai conclamata patologia. Quindi è un obiettivo terapeutico strategico quando le sofferenze di giocatore familiare sono assolutamente intersecate e queste interferenze tendono a resistere al cambiamento. Se si accolgono i bisogni di autonomia del primo, ralasciando le richieste del secondo, viceversa, si crea un contesto di allarme che riporta alla condizione primitiva, cioè la situazione pre-consultazione per via dei sensi di colpa, le angosce di abbandonio, i pericoli del burnout, il crollo e quant'altro. Com'è formata l'equipe che si occupa da Ancona di questa attività? Uno psicologo-psicoterapeuta responsabile che ha circa 10 ore, un medico-psichiatra 4 ore, un assistente sociale 4 ore e una sociologa 8 ore. Poi ci sono due psicologi psicoterapeuti di gruppo che sono 10 ore sostanzialmente, una psicologa per la terapia familiare 4 ore, 6 psicologi facilitatore dell'associazione di auto-muto aiuto che svolgono 12 ore. Nessuno di questi a tempo pieno perché servizi dedicati praticamente non ci sono, praticamente in nessuna situazione del servizio pubblico e comunque sono sempre un'area del servizio pubblico e questo credo che sia anche positivo perché avere operatori che si dedichino solo a questo forse sarebbe anche poco produttivo, non solo troppo costoso ma anche dal punto di vista proprio dell'evitare di occuparsi di una tematica sola. Le attività svolte sono l'accoglienza, che ovviamente questa è molto importante, una buona accoglienza può produrre poi una continuità, quindi l'inizio di un percorso di successo, la valutazione del caso, il trattamento e anche attività di prevenzione e informazione. Come l'accoglienza sono colloqui orientati su come funziona il servizio, per comprendere meglio come stanno le cose, raccogliere informazioni ovviamente sulla persona, sui suoi comportamenti precedenti, non solo limitati al gioco e l'individuazione della storia del gioco, cioè come si è accostato al gioco. Talvolta il problema è collegato strettamente anche a problemi legali, cioè tipo finanziamenti, richieste, firme, prestiti, prestiti anche sul mercato illegale e via di seguito. La valutazione sono colloqui clinici, c'è l'osservazione della personalità del giocatore, le ipotesi proposte sul significato del suo comportamento di gioco, la consulenza medico-psichiatrica per gli aspetti di valutazione clinica sulla personalità, la valutazione psicodiagnostica quando serve, formulazione e condivisione di un progetto terapeutico. Ovviamente è molto importante la condivisione perché se non si riesce a condividere il progetto, generalmente il progetto, anche se portato avanti insieme ai familiari, tende a fallire. Il trattamento c'è sia la psicoterapia individuale, cioè tutte le risorse che sono a disposizione, cioè sia individuale, sia la psicoterapia familiare, la psicoterapia di gruppo e i gruppi di automuto aiuto. Possono ovviamente servire colloqui aggiuntivi, motivazioni al programma, incontri di convincimento e tutto ciò che serve normalmente nell'assistenza a una persona di questo tipo. Può essere attivato un percorso con l'assistente sociale per la gestione economica, la pianificazione del debito, del rientro del debito e quant'altro. Cosa consiste l'informazione e la prevenzione? Quello che è stato detto anche poco fa, realizzazione e distribuzione in materiale pubblicitario, collaborazione con gli altri servizi, partecipazione e organizzazione di convegni, eventi e incontri nelle scuole. Gli incontri delle scuole, questo che è l'obiettivo per l'anno scolastico in corso, 2012-2013, cioè intervento conoscitivo delle abitudini degli adolescenti sui videogiochi e l'accesso alla rete. È stata fatta un'indagine in un istituto superiore di Ancona su sei classe per un totale di 139 studenti, poi due incontri con modalità di focus group per classe, la somministrazione di 364 questionari e poi un incontro finale di riflessione sui risultati con genitori, insegnanti per valutare tutto il materiale raccolto. Poi incontri nelle scuole, a questo sono quanto è emerso, dunque. Ti succede di temere che la vita senza internet sarebbe noiosa, vuota e senza gioia? Il 39% ha risposto spesso e il 61% ogni tanto o mai. Perdi ore di sonno per restare fino a tardi attaccato al computer, il 39% dice spesso o sempre, il 61% ogni tanto o mai. Per quanto tempo giochi al giorno? Il 37% dice due o tre ore, l'11% quattro ore ed oltre, il 48% o meno di un'ora al giorno. Altra domanda, se ti fosse concesso di fare nel mondo reale ciò che i personaggi di videogiochi compiono lo faresti? Il 61% dice sì, ammazzerei gli sbirri, conquisto il mondo, userai i trucchi per avere soldi, immortalità, insomma tutte queste cose qua. Poi, alla scuola per genitori, questo è importante, incontro di genitori con figli dei 12 e 18 anni, quindi sostanzialmente le superiori e gli ultimi anni delle scuole medie. È stato progetto organizzato dall'Associazione Calia con il contributo della Regione Marche, incontro sul tema le passioni degli adolescenti e il rischio di dipendenza. Poi i gruppi di cui citavo prima di auto mutuo aiuto, sono attrivi tre gruppi nel nostro ripartimento, ciascuno condotto da due psicologi facilitatori, opportune che hanno avuto una loro formazione, si riuniscono ogni settimana, possono accederci sia i giocatori che i familiari, ripeto quanto detto prima, anche se il giocatore non vuol venire, perché comunque riuscire a formare un familiare per cercare poi di agganciare il giocatore, è ritenuto una cosa importantissima, il massimo è 12 persone, in genere però un po' di meno. Per rispondere all'esigenza dell'utenza vengono effettuati ad orari pomeridiani differenti l'ultimo alle 20 e 30. Questo degli orari è uno dei problemi che pongono spesso sia i giocatori che i familiari, ah non posso venire perché mi scomodo l'orario, perché non posso in quel giorno, per cui è importante la disponibilità dell'orario e quindi anche ore che sono generalmente non utili nel servizio pubblico. Non è previsto un limite di tempo per la partecipazione del giocatore. Poi la psicoterapia di gruppo, anche qui sempre un gruppo di massimo 12 persone condotto da due psicologi, psicoterapeuti, nel gruppo possono accedere solo i giocatori. Durata media un anno, selezione dei pazienti in base al livello di motivazione, sufficiente consapevolezza del problema, capacità introspettiva, capacità di separarsi dall'altro. Cioè è importante che ci sia una certa omogeneità nella scelta delle persone. Obiettivi terapeutici, assenza di comportamento di gioco per almeno otto mesi, senza ulteriori misure di sostegno. Esempio controllo del denaro da parte dei familiari o di altri. Maggiore consapevolezza dei motivi che hanno condotto al gioco, saper riconoscere e gestire futuri eventuali segnali di crisi. Questi sono i dati, qui dal 2011. Parliamo sempre di l'area vasta 2 Ancona, dove però confluiscono anche, poi lo vedete nei prossimi grafici, persone provenienti da altri territori dell'ex zona 7. Nel 2011 i maschi erano nuovi 14 persone, le femmine 5. Invece già noti ce ne erano già 17 maschi e 2 donne. Complessivamente in trattamento 38 persone. Nel 2012 i già noti sono 28 maschi e 3 femmine. C'è poi nella tabella, potete scorrere l'età media, che è quella centrale, tende soprattutto nell'area centrale dell'età. Invece i nuovi sono 23 persone, nuovi ingressi di 23 maschi e 6 femmine. Nel 2013, però i dati si riferiscono solo fino a settembre, quindi i primi 9 mesi dell'anno. I nuovi ingressi sono 25, 25 maschi e 7 femmine. I già notici, a quelli che vengono dagli anni precedenti, sono 35 maschi e 4 femmine per un totale di 71 persone. Se vedete l'andamento, noi passiamo dai 38 soggetti trattati complessivamente nel 2011, ai 60 nel 2012, ai 71 fino al settembre 2013. Questi sono i grafici riportati sempre fino al settembre 2013. Vedete l'andamento da 38 a 71. Il totale, i nuovi saliamo da 19 a 29 del 2012 a 32 del 2013. Nella prima parte del 2013 invece i già notti, siamo da 19, permangono 31 in trattamento e poi 39. Andrei avanti per brevità. Questo dal punto di vista della differenza di genere maschi e femmine. Ancora vado avanti, cioè 31, 51 e 61 sono i maschi, invece 7, 9, 10 le femmine. Questa è la residenza, questa può essere importante. Nel grafico vedete la parte inferiore, 11, 16 e 20, l'annualità è 2011, 2012, 2013, sono fuori zona di Ancona ex zona 7. Invece la parte intermedia è la zona nostra, il bacino nostro di residenza che è 21 casi, 43 salgono a 51 quest'anno e il totale è l'ultimo, la linea più alta. Questi sono i numeri delle prestazioni, l'attività telefonica che ha 136 volte nel 2011, 133 nel 2012, 122 nei primi nove mesi di quest'anno, le visite 9 nel 2011, 8 nel 2012 e 13 nel 2013. I colloqui invece, ovviamente i colloqui che poi l'attività prevalente sono 133 colloqui nel 2011, 278 nel 2012 e 197 nei primi nove mesi del 2013, i colloqui invece di consulenza familiari, quindi il familiare senza il giocatore sono 16 nel 2011, 44 nel 2012 e 38 nei primi nove mesi del 2013. Altre attività sono il gruppi AMA e il totale delle prestazioni è 297 nel 2011, 693 nel 2012, 370 nel 2013, però ci sono con circa 30 incontri settimanali gruppi AMA per un totale di prestazioni al 30 settembre 2013 di 1300 prestazioni. Questi sono i dati italiani, però credo che questi più o meno li avete tutti, la fonte è quella delle indagini, il gratte vinci, quanti italiani, il 46,4% non ha mai utilizzato il gratte vinci, il 44,4% invece non più di una o due volte al mese, non tutti i mesi e invece 9,2% più volte al mese. Il supererà lotto è 53% mai, 53,5%, 35,3% una o due volte non tutti i mesi e non tutti i mesi, l'11,2% più volte al mese. Il lotto è 70,1% mai, 25,9% una o due volte non tutti i mesi e 4% invece più volte al mese. I giochi di carte con denaro il 90,8% mai, l'8,3% una o due volte al mese e non tutti i mesi, lo 0,9% più volte al mese. Poi le scommesse d'agenzia, il bingo e a scendere un po' tutti gli altri, i video poker e tutto il resto. Poi distribuzione frequenta gioco per tipo di intrattenimento adolescenti, anche qui gli adolescenti, 44,2% mai, 44,2% una o due volte non tutti i mesi, l'11,8% più volte al mese. Le scommesse sportive, sia tramite agenzia che tramite internet, 65% mai, 15,9%, quasi 16% una o due volte al mese, non tutti i mesi, 15,9% e invece 19% più volte al mese. E via a scendere un po' qui la statistica, vedete che man mano c'è una diminuzione, cioè mai aumentano, qui non l'ha utilizzati mai, altri tipi di giochi come il bingo, giochi telefonici superano 8 e scendono ovviamente anche chi le fa una o due volte al mese e più volte in un mese. Questo è interessante perché i dati per regione, numero assoluto dei soggetti in trattamento, andiamo dalla Lombardia 1096, Piemonte 904, Veneto 765, Sicilia 411, Puglia 344, Campiane 316, 163 il Friuli Venezia Giulia, 143 le Marche. Aggiungo però su questo che questo dipende anche dalla presenza dei servizi, perché alcune regioni del sud non hanno i servizi, quindi ci sono basso numero di soggetti in trattamento, ma in realtà non è che il fenomeno non c'è, anzi il fenomeno magari è più pronunciato, però dal punto di vista dei dati, i dati sono non fondati. Questo è interessante, i dati della Camera di Commercio di Milano sono 9.300 le imprese italiane attive quest'anno nel settore scommesso e giochi d'azzardo. L'incremento è di circa 32,1%, cioè un incremento fortissimo. Se i dati nostri sui altri indicatori economici fossero questi, l'Italia andrebbe benissimo. 4.344 i luoghi adibiti a Lotto, Superlotto e Totocalcio. Le crescite più significative sono Emilia-Romagna più 80%, le Marche più 45,5%, noi siamo secondi in Italia come incremento e la Lombardia più 43,4%. Cosa dobbiamo attenderci dal futuro? Questa è la domanda con cui il dottor Raboni e il gruppo di lavoro chiudeva una valutazione. Mi sento di dire alcune cose, queste distaccate della prima cosa che indubbiamente c'è questo problema che le dipendenze rappresentano sempre un'anestesia, ormai me ne sono convinto non solo perché lo leggiamo nelle pubblicazioni e le ricerche ma perché sul campo, poi se ne renda terribilmente conto, un'anestesia è un forte distacco rispetto alla vita di tutti i giorni, la quotidianità. Quindi si tratta di una condizione esistenziale e come tale va trattata sicuramente il contrasto sul meccanismo delle dipendenze ma anche sulla condizione della persona. Ovviamente sulla domanda cosa dobbiamo attenderci dal futuro è una situazione molto complessa perché le dipendenze si intrecciano con le vicende del mercato quando parliamo di sostanze e del mercato criminale, delle leggi delle condizioni sociali. Quando parliamo invece dell'area del gioco patologico c'è un problema in più che è quello dell'interesse delle istituzioni pubbliche nel prelevo forzoso da parte di questo meccanismo del gioco. In realtà i dati, qui parlo quando uno va alla Procura della Repubblica ti dicono si ricordi che da questo momento lei parla come persona informata sui fatti e quindi concludo poi il mio intervento. Ed è questo. Cioè lo Stato preleva dal gioco ripetuto circa 9 miliardi di euro l'anno. 9 miliardi di euro l'anno è una manovra finanziaria. L'anno scorso in Commissione Affari Sociali della Camera ci fu un momento in cui sostanzialmente tutti i gruppi politici erano d'accordo nell'introdurre una serie di meccanismi che avrebbero limitato il gioco d'azzardo. E ci fu un ordine del giorno che era stato ampiamente firmato dal PDL al PD, compreso tutti i gruppi minori e via di seguito. Quando l'ordine del giorno venne portato per l'approvazione si precipitò il Direttore Generale del Ministero del Tesoro dicendo che questa è una follia, state facendo crollare i conti. Noi informiamo il Governo che se cadono, avevano fatto una previsione come sempre si fa, da 9 miliardi e qualcosa il prelevo nella tassazione e nelle vincite sarebbe sceso a 3 miliardi, cioè circa 6 miliardi di scoperto nei conti dello Stato. Dice fate quello che volete, mi ricordo il Governo in carica che poi era un Governo di larga intesa e quindi non è che aveva grandi problemi nei numeri, mise il veto sull'emendamento. Questo è un grosso problema perché se il meccanismo pubblico per forza di cose, per sopravvivenza non riesce ad affrontare il problema con ovviamente nuove tasse o nuovi tagli, è chiaro che il meccanismo della legalità del gioco è difficile sconfiggerlo. Ai dipendenti del Servizio Pubblico Nazionale, coloro che se ne occupano, resta la possibilità sicuramente di lambire il fenomeno, di in qualche modo affrontarlo nel dettaglio, cioè dei giocatori patologici, dei problemi delle loro famiglie, ma è difficilissimo scardinare un meccanismo che in qualche modo viene indotto. Purtroppo questo è un dato e credo che prima o poi a livelli più alti istituzionali bisognerà farsene carico. Grazie. Grazie dottor Ciccioli. Grazie. Grazie.